Vorrei sapere in che modo a livello operativo intendete agire in questo passo di integrazione degli Stati membri a livello appunto della difesa? L'Italia è stata molto attiva in questo percorso di preparazione del Consiglio Europeo di Difesa, attiva su vari fronti, ovviamente consultando in molti incontri bilaterali i partner europei, anche con alcune iniziative dirette, per esempio c'è stata una lettera del Ministro della Difesa italiano congiunta con la Spagna e il Portogallo, con gli omologhi di Spagna e Portogallo per suggerire all'alto rappresentante, quindi alla Baronessa Ashton, alcuni contenuti che effettivamente poi sono stati ripresi nella comunicazione che è stata fatta dall'alto rappresentante e che quindi è alla base del documento che verrà poi portato nel Consiglio di Dicembre. Ora il 18 e il 19 novembre ci sarà l'ultima riunione dei Ministri della Difesa europea in cui appunto definire e limare i diversi interventi. E su che cosa in particolare ha puntato l'Italia? Noi stiamo spingendo in modo molto forte perché l'Europa prenda coscienza dell'importanza dell'integrazione sui temi di difesa e sicurezza, ma anche consapevoli del fatto che perché le parole non rimangano vuote intenzioni, perché in questi anni abbiamo parlato tantissimo dell'esigenza di creare una difesa e sicurezza comune, da metà degli anni 90 si parla in modo forte di questa necessità, però abbiamo visto che i passi avanti effettivi sono stati piccoli. Allora, anche se ci piacerebbe poter già dire che siamo pronti ad una cooperazione rafforzata su questi temi, sappiamo che immaginare che tutti i 28 paesi possano ritrovarsi cedendo sovranità nazionale per dare sovranità all'Europa, purtroppo non siamo ancora pronti, cioè noi lo vorremmo ma non siamo ancora pronti. Allora l'idea è comunque di andare avanti con accordi, mettendo d'accordo i diversi paesi, ma di consentire anche all'Europa di procedere per gruppi diversi, cioè soprattutto immaginiamo e procediamo soprattutto su qualcosa di concreto. Quando ad esempio possono verificarsi crisi in paesi, in aree di interesse di alcuni paesi europei, bisogna poter utilizzare per esempio l'articolo 44 del Trattato di Lisbona, che è quello che consente ad alcuni paesi appunto di avere accordi per muoversi, quindi non come paesi che si muovono al di fuori dell'Europa, ma come gruppo di paesi a cui l'Europa assegna dei compiti per poterli svolgere. Nell'esperienza che facciamo quotidianamente, il fatto di portare avanti progetti concreti è quello che ci unisce di più. Allora in Europa abbiamo bisogno, anche sui temi di difesa e di sicurezza, di far crescere progetti concreti. Un elemento che l'Italia vuole inserire, più di quanto già ci sia nei documenti, che per esempio è quello dell'addestramento e della formazione comuni. Per costruire delle forze armate europee, oltre a dare effettivamente più importanza ai battle group, cosa su cui noi siamo assolutamente d'accordo, abbiamo bisogno però di creare una capacità formativa e addestrativa più forte fra le diverse forze armate. Anche quello un passo avanti, diciamo, per fare più Europa sui temi della difesa. Grazie, un'ultima domanda. Secondo lei l'educazione superiore, che ruolo può avere in questo processo di unificazione? Io penso che il tema dei giovani sia fondamentale. Oggi noi potremmo distinguere i cittadini europei davvero in due fasce. Chi ha fatto l'Erasmus e chi non l'ha fatto. Cioè credo che, diciamo, chi ha fatto l'Erasmus... Chi l'ha fatto? Cosa conclude? No, io penso che chi ha fatto l'Erasmus si senta già molto più forte come cittadino europeo. Cioè sia stata un'esperienza che comunque ha aperto all'idea di non sentirsi cittadini solo della propria patria, ma dell'Europa, in modo molto più profondo di quanto non sia stato fatto con, per esempio, la mia generazione. Ai miei tempi c'era l'Interrail, non c'era l'Erasmus, però anche quello era stato un modo di aprirsi, diciamo, all'Europa. Allora, da questo punto di vista, l'idea di creare un senso di cittadinanza europea, che per ora è un concetto un po' astratto, un po' vago e poco vissuto, ma che invece diventa essenziale se vogliamo davvero spingere all'Europa, credo che su questo l'educazione e progetti, ecco, tipo l'Erasmus, da riprodurre anche in altri ambienti, in altre modalità. Per questo che prima parlavo di formazione congiunta delle Forze Armate. Lei poi mi fa la domanda dei giovani, nelle Forze Armate ci sono anche, come sa, persone molto giovani, però ovviamente poi io penso che l'idea di un unico spazio dove i cittadini europei possano vivere può essere portata avanti con molte iniziative nel campo formativo.